Ma non è che veramente non si può trovare la leggenda nel baule del re? Mi sta iniziando a venire qualche dubbio Mi sta invenendo qualche dubbio, invece no! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Clash Royale Con il nuovo account Ormai non so più come chiamarlo ragazzi Perché non possiamo chiamarlo account livello 1 Non possiamo dargli un nome specifico Quindi lo chiameremo sempre il mio nuovo account sostanzialmente Siamo qui con un bel po' di gemme Siamo qui con un bel po' di gemme 14.000 pronte pronte Perché all'arrivo della prossima arena La casa dei giochi della pecca Finalmente potremmo andare a sbloccare il minatore Ovvero la prima carta leggendaria disponibile sostanzialmente Perché io fino adesso non ho mai potuto sbloccare una carta leggendaria Ma attenzione che ci mancano ancora un po' di coppe Oggi ci andremo a fare questi 135 trofei Sperando abbastanza agevolmente come al solito con questo nuovo account E poi ci andiamo ad ammazzare di bauli su bauli Tra l'altro ragazzuoli mi raccomando lasciando un bel mi piace Direi di arrivare almeno a 5.000 like E ci andiamo a shoppare il passo royale anche su questo nuovo account Quindi mi raccomando ragazzuoli 5.000 like Vi ricordo anche il codice creatore GGYT Tutto attaccato in uno shop di clash royale Mi raccomando lo trovate in fondo su sostieni un creatore Appunto vi basterà inserire il codice creatore GGYT Ogni settimana scade quindi dovete reinserirlo Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto E detto questo sto scalando con questo deck molto carino Ma sti andiamo a potenziare ovviamente l'orda di scheletri E vediamo... ah ok un altro livello le possiamo far fare a questa carissima carta Direi di sì Ok un altro livello ancora no anche perché non abbiamo l'oro Ma le frecce sì Attenzione ragazzi stavo giocando con il deck non potenziato Effettivamente a quanto lo potessi potenziare Comunque detto questo Vediamo un po' quanto ci mettiamo a raggiungere sti mille trofei Ovviamente ragazzi queste partite ve le taglierò un sacco E poi ho trovato un livello 4 In realtà non è normale che io abbia trovato un livello 4 Vi giuro che sto trovando tutti i livelli abbastanza alti A volte anche più alti di me E con carte più alte delle mie Vabbè il tipo qui non fa nulla Oddio mio ragazzi Ma veramente c'è c'ho avuto un tempismo incredibile ragazzi C'è c'ho avuto veramente un tempismo pazzesco raga C'ho avuto un tempismo fuori dal comune Veramente incredibile Vabbè comunque ci siamo portati a casa una torre E lui c'ha le carte abbastanza basse ragazzi Un livello 4 fenomenale Un livello 4 fenomenale perché Con appunto un livello bassissimo Le truppe bassissime si sta portando a casa Un sacco di bei risultatini E attenzione gioca anche il gigante Bel push da parte sua Vediamo un po' se riusciamo a fermarlo Ovviamente sì Ok ragazzi stavolta mi ha preso alla sprovvista Con il barile goblin Purtroppo non avevo ancora ciclato le frecce Ma penso che al nostro prossimo push Ce la portiamo a casa Attenzione però Oh lui gioca eh Se la vuole giocare fino all'ultimo Di sicuro se la vuole giocare fino all'ultimo Noi comunque difendiamo Uh barbarelli per lui Ma è cattivissimo questo ragazzi Cioè non mi sta permettendo di fare le tre Le tre stelle Dovevo pushare un po' più cattivo E vabbè me ne farò una ragione Niente ragazzi come vi avevo detto Purtroppo alla fine non sono riuscito a fargli le tre stelle Le tre corone anzi scusate Che tre stelle mica siamo su clash of clans Scusate Però ovviamente la cosa importante è che ce la siamo portata a casa Andiamo con la prossima Ah il nostro avversario parte subito così Con un'orda Cattivissima Ma che è oh niente Mi sono messo a registrare ragazzi E ho iniziato a beccare tutta gente molto più bassa di me Ragazzi io continuo a giurarvi che Fino a poco fa stavo beccando gente Non dico più alta di me Ma comunque bene o male Del mio stesso livello Anzi no qualche livello 8 anche ho beccato eh Oh non me lo spiego ragazzi Non me lo spiego va bene Ok ragazzi con questo invece è stato possibile Fare le tre corone E quindi ovviamente per non farci mancare nulla Ce le siamo portate a casa Vediamo se riusciamo a beccare un livello 7 come noi Con le carte un po' più potenti Un po' più potenziate No vabbè però almeno un livello 6 Piano piano stiamo salendo ragazzi Abbiamo fatto 4, 5, 6 Il prossimo vi giuro che è un livello 7 Me lo sento me lo sento ragazzi Me lo sento Questo è partito aggressivissimo proprio eh Questo sta a 2000 Oh my god Mi ha fatto anche lisciare le frecce Ha giocato il barile goblin dietro Però l'aveva giocato talmente tanto dietro Che se avete notato un goblin stava andando alla torre principale Questo ragazzi mi sta mettendo sotto pressione Incredibile Ma non si gioca mai un'orda di scheletri sopra un'altra d'orda di scheletri ragazzi Perché ricordatevi che le truppe quando le schierate C'è quel micro lag tra virgolette normale di quando schierate la truppa Che non permette alla truppa appena scende in campo di poter combattere Quindi in questo caso lui ha giocato l'orda di scheletri Tutti gli scheletri suoi hanno avuto quel micro lag ovviamente per essere stati piazzati a terra E noi ovviamente con i nostri abbiamo ucciso tutti i suoi Comunque detto questo non voglio rischiare contro sto tipo E quindi andrò di doppia lane cercando di farmi subito due corone Molto probabilmente si è arreso ragazzi Perché non sta più giocando nessuna carta E quindi altre tre corone per noi ragazzoli Molto 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 facile Però adesso ci tocca il livello 7 eh No ragazzi siamo tornati di nuovo indietro No Siamo passati di nuovo a 5 Quindi dopo ci tocca di nuovo il livello 4 Fatemi capire Non lo so ragazzi E vabbè niente non ce la faremo a beccarci il livello 7 Ho parlato troppo presto prima Tra l'altro questo non sta giocando nulla C'è proprio Ah ha giocato adesso il gigante Dall'altro lato Tra l'altro è a livello 6 Si sarà già arreso Non so magari avrà visto il livello 7 Avrà visto il livello delle carte Si sarà già arreso Io però non voglio fargli far danno Non me la voglio rischiare ragazzi No no anche perché vedete adesso qualche carta l'ha giocata Non l'ho capito questo tipo Non l'ho capito ma noi nel dubbio Siamo andati a fare subito tre corone Vai perfetto alla grande Passiamo al prossimo avversario Che tra l'altro se tutto va come deve andare sarà anche l'ultimo Perché siamo praticamente arrivati alla nuova arena Perché ci mancano 12 coppe quindi se dovessimo vincere andremo appunto nella nuova arena Dai ragazzi no niente Lo sai però siamo già nell'arena ragazzi Perché abbiamo beccato uno King Willy Che sta a mille coppe preciso questo Questo ragazzi sta a mille coppe esatte Oh mio dio quanto è partito pure lui cattivissimo Va bene Va bene va bene va bene Ah lo stregone E lui però ha le carte già un po' più potenziate Rispetto agli altri che abbiamo incontrato fino ad ora Lui ha già le carte un po' più Alte di livello rispetto a tutti gli altri Certo quello stregone è abbastanza basso Oh 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 Attenzione al principe Attenzione Mettiamo subito la cabbia del goblin Che dovrebbe bastare addirittura Aspettate va che per questo Vedete regà stavolta la cavolata l'ho fatta io Ma ero sostanzialmente costretto E poi comunque sapevo che molti dei suoi scheletri erano andati sul mio goblin E quindi me la son potuta tra virgolette permettere come giocata Ok raga andiamoci a prendere sto barile che stavolta ci abbiamo le frecce E direi che adesso ripartiremo col gigante da dietro Ok mega sgherro su quel fantastico cucciolo di drago Alla fine non sono riuscito a ripartire col gigante come avete visto Perché questo qui continua a piazzare truppe Noi andiamo di barile goblin E intanto quella torre Per non sapere né leggere né scrivere Ce la prendiamo E quello stregone Ma no raga non gli faccio niente a quello stregone Ripartiamo da dietro col gigante Potevo giocare la valchiria eh Però la valchiria me la voglio tenere per il push col gigante Vi voglio Vi voglio stupire No raga mi ha intato la torre Mannaggia E vabbè pure il mini pecca Vai mettiamo la bella gabbia per goblin qui davanti Ma io quasi quasi che lo lascio questo raga Ma io quasi quasi che lo lascio sto barile goblin Pushiamo Pushiamo come se non ci fosse un domani ragazzi Io le frecce me le tengo per la sua orda di scheletri se ce la gioca Gioco un altro gigante Eh con la sfera infuocata ragazzi vado a togliere Uh Anche parecchia orda vado a togliere Però non siamo riusciti a chiudere la partita raga È riuscito bene o male a difendersi Sapete che è riuscito bene o male a difendersi Dovevo giocare la valchiria prima Però vabbè dai raga Poco cambia Non è che Non è successo nulla Dai non è successo nulla Direi di andare a fare altro danno con La nostra carissima Il nostro carissimo barile goblin Lo stregone l'ho preso Per fortuna che lo stavo per lisciare E niente raga alla fine sta partita non è stata mica tanto facile eh Sta partita non è stata mica tanto facile alla fine della fiera Certo abbiamo vinto meritando Per poco non ne facciamo tre Però dai diciamo che se l'è giocata Ma adesso arriviamo al succo del video Adesso arriviamo alla parte veramente importante Lo riusciremo a trovare subito Questo carissimo minatore Ci abbiamo anche un'offerta speciale Uh il pacchetto casa dei giochi di pecca Regà 5000 like e ci andiamo A shoppare il pacchetto casa dei giochi di pecca E soprattutto ci andiamo a prendere il passo royal Quindi mi raccomando un bel mi piace Vi ricordo il codice creatore GGYT Tutto attaccato nello shop di Clash Royale Iscrivetevi al canale se questo è fatto Detto questo ragazzi direi che possiamo iniziare Ma non prima di riscattare un po' di premi di qua e di là Aspettate ragazzi perché mi sono sbagliato Dovevo riscattare questi i premi ragazzi Adesso che siamo arrivati all'arena direi che possiamo aprire Oh va bene va bene va bene va bene Quel baule magico me lo tengo ragazzi eh Già ve lo dico Siamo di baule del re Let's go Allora 3200 di oro regà Loro ci servirà un sacco Jolly iniziamo con i Jolly ragazzi Mi sa non avevamo ancora trovato Jolly con questo account Mi sa che sono i primi Allora Oh abbiamo sbloccato lo stregone Abbiamo sbloccato il infernale Regà veramente con Clash Royale Non c'è quell'ebbrezza di sbloccare le carte Perché ogni volta che arriviamo all'arena successiva Li sblocchiamo subito tutte immediatamente Cioè ma ne abbiamo sbloccate già 3 regà 3 su quante Cioè scusate eh Ne abbiamo sbloccate 3 su 7 Ma non c'è gusto Così non c'è Troppo facile Meglio eh per carità meglio Perché sennò diventerebbe veramente difficile Poi comunque su Clash Royale La vera parte difficile E poi andare a maxare tutte le carte Quella poi è la parte difficile eh Quello Quello è molto complicato Comunque Jolly Jolly E altri Jolly Epici Anche lo spiritello del fuoco I draghi d'ossa Gabbia per goblin Pecca Quindi per esempio abbiamo sbloccato già tutto Tranne il minatore Quindi ragazzi adesso Ci rimane solo e soltanto A trovare il minatore Ma si possono trovare leggendare qui? Penso di sì ragazzi Cioè penso si possa trovare la leggendaria Anche perché se no non saprei dove poterla sbloccare Comunque Andiamo a togliere Ovviamente Le notifiche Delle nuove carte Abbiamo sbloccato il peccone Regà Abbiamo sbloccato il peccone Tanta tanta roba Ora molti voi diranno Gigi ma grazie al cavolo che le sblocchi tutte subito Stai shoppando i baule del re Sì lo so regà Però sapete Su Brawl Stars Quanto invece sia difficile trovare un nuovo brawler Però è anche vero che su Brawl Stars C'è tutta un'altra meccanica Ovvero non Trovi più Tutte quelle Quei brawler Perché hai già maxato Quindi è tutto diverso Quindi effettivamente ci sta ragazzi Non ci avevo pensato E niente ragazzi Però non stiamo trovando il minatore Che è una cosa che ci interessa tantissimo L'unica cosa Anzi Mi permetto di dire Che ci interessa quest'oggi Possiamo aprire altri 4 bauli del re Attenzione Altri 4 bauli del re Allora 36 comuni Una epica 162 comuni 26 rare 28 rare E 8 epiche E altre 9 epiche Mannaggia 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 ragazzi Per adesso Ma non è che veramente Non si può trovare la leggendaria Nel bauli del re Dai però non avrebbe senso Non avrebbe senso ragazzi Non poterla trovare Però mi sta iniziando a venire qualche dubbio Mi sta invenendo qualche dubbio Invece no Ce l'abbiamo fatta ragazzi Prima Leggendaria Su questo Nuovo Account E ovviamente Sarà il minatore La cosa brutta È che non c'è neanche Un minimo di hype Un minimo di brivido Perché tanto lo sappiamo Che è lui Maledizione Let's go E ce l'abbiamo fatta ragazzi Eccola qui La prima Carta Leggendaria Del nostro Nuovo deck Del nostro Nuovo account Anzi E io a questo punto Mi risparmierei Quelle 4000 gemme Così magari Quando andiamo ad aprire Queste offerte Col passo royale Eccetera eccetera Le andremo a sfruttare Tanto l'obiettivo di oggi ragazzi Era arrivare a prendere il minatore Quelle 14000 gemme Erano per arrivare a prendere il minatore Tanta tanta roba Regà Tanta tanta roba Ce l'abbiamo fatta E anche su questo account Iniziamo a trovare le leggendarie Mi raccomando Vi ricordo I 5.000 like Iscrivetevi al canale Se è ancora questo è fatto Il codice creatore GGYT Tutto attaccato Nel shop Di clash royale Per supportarmi Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video qui Sul mio canale Ciao ragazzi